Vuoi mangiare qualcosa? Ok. Dove te ne vai, Stella? A fare un giro. Questo è Michael. Andiamo. Stella. Conosci Hudson Bluff a picco sul promontorio? E chi batte la tua moto? Non devi battermi, Michael. Cerca solo di non farti seminare. Facciamo un giro, amico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai, vieni. Stammi dietro, Michael. Dai! Dai, vieni. Dai, vieni. Dai, vieni. Dai, vieni.